Domenica 25 giugno, una giornata di prevenzione per il diabete. A Forio, in corso Francesco Reggine, uno screening per tutti coloro che vogliono controllare la propria glicemia. Esatto, confermo ciò che è stato detto e siamo felicissimi di poter usufruire dell'ospitalità del bar pub Il Tramonto che ci metterà a disposizione il bar sia esterno che internamente. Parteciperanno diversi dottori, tra cui podologa, dietista, nutrizionista, psicologo, diabetologo e diversi infermieri. Tutti disponibili e sono tutti volontari chiaramente. Siamo felicissimi perché a Ischia ne facciamo non solamente uno a Forio ma ne faremo uno anche a settembre qui a Ischia perché la prevenzione è molto molto importante, ciò che vogliamo far comprendere ai pazienti e non che la prevenzione va fatta e quindi noi consigliamo sia una sana alimentazione che un giusto moto in modo da prevenire alcune patologie tra cui il diabete. Tra l'altro il diabete è una malattia sistemica che va a colpire diversi organi del nostro organismo proprio per questo, proprio per dare delle consulenze, è stato istituito un numero alle quali i cittadini interessati possono chiamare per avere appunto dei consigli. Esatto, anche questo è un servizio che abbiamo istituito da pochi mesi però con grande soddisfazione non solamente nostra ma anche dei pazienti. Ci sono degli ambulatori che abbiamo aperto, secondo i giorni, ambulatori che abbiamo aperto grazie al comune di Ischia quindi bisogna dare atto al comune di Ischia che ci ha messo in disposizione questi alloggi in salita San Pietro. Il numero del call center è il seguente, 333 173 1970, ripeto, 333 173 1970. da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. C'è una persona che risponde e secondo il dottore di cui si ha bisogno darà un appuntamento.